Musica Diunione pugilistica ad alto livello, quella organizzata dalla Boxe Lumezzane per sabato 26 marzo presso il Palafiera di Lumezzane, a partire dalle ore 16. Saranno 10 gli incontri ad animare il pomeriggio Valgobino, con il crew rappresentato dal match conclusivo, categoria Pesi Massimi, tra i portacolori della Boxe Lumezzane Mattia Facchini, di recente medaglia d'argento ai campionati nazionali Youth, e Claudio Pizzi del Fight Club di Milano. Il rappresentante milanese, allenato dall'ex campione del mondo WBC del 2008, Giacobbe Fragomeni, è un'elite di prima di ottimo livello ed è arrivato sino ai quarti di finale dei campionati italiani assoluti nella sua categoria. Un match dunque impegnativo per il ragazzo di Bovenio, in grande crescita sotto tutti i punti di vista, e che sarà assistito per l'occasione dal pubblico di casa. Facchini, appena reduce dall'ultima vittoria sul ring, ottenuta a fine febbraio contro il campione in carica dei supermassimi Youth, il piemontese Giovanni Cacciatore, stroncato da un diretto destro del pugile Valdrompino alla seconda ripresa. Oltre a Facchini rappresenteranno la box lumezzane al Palafiera, Sara Carbonare e Giacomo Donati. Per entrambi si tratta del primo incontro in assoluto, e quindi del battesimo del fuoco, dopo gli allenamenti svolti con gli allenatori della box lumezzane. La ragazza di Villa Carcina dovrà vedersela con la rappresentante della Freemass Box Pelliccia. Il debutto per Giacomo Donati avverrà invece nel match immediatamente precedente, di fronte al pugile del team Caloi di Bergamo a Iroldi. Ad aprire il pomeriggio il match tra Todaro del team Caloi e Badr Aydara della Freemass Box, quindi Giaffel del team Caloi contro Zelottini. E in successione Parolini Verdi, Iroldi Donati, Carbonara Pelliccia, Gambirasi Omaglia, Xeved Nasufi Montari, Gigliarano Pittarello, Renato Nasufi Zacchetti e Facchini Pizzi. Sarà presente alla manifestazione, oltre all'ex campione iridato Fragomeni, allenatore di Pizzi, anche l'ex pugile della box lumezzane Emiliano Bolognini.